Nel 2011 la Regione ha stanziato un totale di 9 milioni e mezzo di euro per il sistema neve toscano. Finanziamenti che anche alla luce di un anno molto particolare non solo per la crisi economica ma anche sotto il profilo meteorologico si sono rivelati fondamentali per il suo mantenimento e il suo rilancio. Da ottobre a oggi ha messo a disposizione degli enti locali e delle imprese quasi 9 milioni di euro fra quelli diretti a contributo e quelli a garanzia proprio per fare due cose. Uno sostenere il sistema perché noi abbiamo avuto purtroppo dicembre e gennaio dove non c'è state presenze e quindi c'è una crisi reale. Dall'altro ha messo invece delle risorse pari a 5 milioni da dare agli enti per fare in maniera che se quest'altro anno negli anni futuri ci troveremmo in una condizione di carenza di neve come questa di essere organizzati meglio per poter intercettare la gente e farla venire a sciare. Grazie a questi aiuti anche la Toscana può mettersi sulla scia delle regioni soprattutto del nord Italia dove è sempre possibile garantire la neve. Sicuramente è un momento difficile in particolar modo economico come ho già detto ma io vorrei ringraziare l'UNCEM e anche l'ANEF che si sono adoperati per far capire alla regione e fare e lavorare sulle montagne toscane per riuscire a recuperare quel gap che abbiamo nei confronti del nord Italia.